Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Samuele, bentornati o benvenuti nel mio canale Dove me sembra giocando faccio video, però sul canale delle avventure di Arele e Samuele abbiamo fatto abbastanza video Comunque Arele accanto a me, ora mi saluta Ok, siamo sul mio canale comunque Lei ha trovato Maxine da qualche settimana L'ho detto nel nostro canale, ma per chi non ci segue nel nostro canale Iscrivetevi Iscrivervi immediatamente Attivando la campanellina, cliccandola E' andata su tutte Ragazzi allora in questo video faremo delle missioni per accogliere le gemme Perché ci sciopperemo il secondo pacchetto di pin su questo account Ragazzi ne ho scioppato uno senza fare video Ma ho sbloccato queste tre emoticon molto carine Spero di trovare una epica adesso Allora ragazzi Ci sono epiche e leggendari No, cioè allora quelle leggendari si sbloccano dal pass Allora devo vincere tre partite con Jackie Mentre faccio danno in due Eeeh Facendo i gettoni E' un nuovo grado di Jackie Abbiamo fatto E abbiamo con tre gemme Per il pacchetto di pin Di u pacchetto U pacchetto U pacchetto Ballabin Dai 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 Iniziamo 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 No 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 Già sto laggando Ora ti chillo se vieni Bravo zio Oh no c'è gelindo Ragazzuoli 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 come state? Da noi ci sono brutte nuvole Brutte nuvole Però ragazzi siamo felici perché andremo in vacanza Non vi diciamo dove Yeah Ragazzi iniziamo domani dovrebbe spuntare Nuovo brawler in arrivo Vero? Se esce il 26 Altrimenti esce segretamente Non ce l'hanno mai detto Infatti non lo sa neanche Nulz Brawl Perché non lo vede dall'opzione sviluppatore Secondo me lo aggiungono Ma Nulz Brawl L'ha creato sempre la Supercell No Però L'opzione E' come un'opzione sviluppatore Ha tutto in anteprima Ragazzi ho fatto zero di danno in questa partita Ci credete? Zero di danno Non riesco ad attaccare nessuno Sono tutti invincibili contro di me Ah ragazzi Dopo queste mi dispiace Non posso Giorgare più Il telefono Lo so fa molto schifo Perché se sotto carichi scendere di Cioè siamo questi hanno un grado Tre coppe Ragazzi quindi io vi mando Un bacione grosso Un coppe grosso Ma dai Dovevo giocare con i random schifosi Spero di trovare un fan Vabbè esci dalla scuola Perché sei il capo Chiudi Ragazzuoli Vediamo poi Hanno modificato anche l'animazione Quindi io vedrò la nuova animazione Di come aprono il pacchetto Vabbè abbiamo trovato Leon Forse è ancora meglio di Ariel Vabbè dai Ma com'è possibile Spero di trovare Tipo anche l'emoticon Di giochi felici Perché emoticon felici Lei praticamente non ne ha mai Ne ha solo due Killiamo sto bull Oh no 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 Mi sta camminando da solo Dai ma non riesco a fare niente Aiuto Aiuto Vai di danni Dai Vai Leonino No no Leonino Ma che cavolo puoi Non sto scherzando Andrò meglio Ariel Uff 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 Sono su Roblox E non su Brawl Uff Ma che fai Leon Sei un bot Veramente Ma dimmi che è il bot Si gioca come Peggio di un bot Non ho mai visto Un bot Fare così Quindi è proprio lui Che non sa fare niente Anche se è un leggendario Si è il bot Perché non può essere felice Contro uno di 17 Power up Però Poi vediamo se è un bot Almeno danni Li voglio fare ancora Cosa Ma stiamo scherzando Ragazzi abbiamo raddoppiato ancora Anche il grado Ragazzi sarà fortunato No non era neanche il bot Allora perché era così scarso Bu Cioè 23.000 abbiamo fatto Se vinciamo la partita Facciamo almeno meno Di 9 Di 10.000 di danno Abbiamo fatto E possiamo Comprarci Il pacchetto Ragazzi Poi se questo video Raggiungisce il like Vi spiegherò Il prossimo video epico Che uscirà fra tipo Una settimana o meno Un altro Leon Spero che sia meglio Ciao Signora Giulia Stai testando Le nuove fans Ragazzi perché uscirà un video epico Se questo video raggiungisce il like Ve lo spiegherò Se invece ad esempio Non dovessimo raggiungere I 6 like In questo video Entro tipo Una settimana Circa Allora Vedrete semplicemente Il video Vi spiegherò Durante il video Di quel video epico No Devo vincere L'ultima partita Sarà difficile Sembra già scriptata Sta partita No Ma dai Ho usato l'invisibilità Per togliersela Sono tutti contro di noi Siamo chiusi Veramente Da un El Primo E una Pam Oh basta Mi hanno stancato Sti qua Oh ma che vogliono Vai Prego dimmi Che sono Mi affanno Giulia No dai Lo fanno apposta Dai Oh Hai rotto Hai rotto pure tu Peggio di El Primo Ma che vogliono Sti qua Guarda lì Kill Se si avvicinano No Ci ha lasciati Giulia Non gioca più Ma che sfiga Però che ho Danni Alla grande Che caspita Ha fatto Sti il Primo Vai ragazzi Cioè Abbiamo salvato La partita Ora vabbè Penso che sia inutile Tanto sono da solo Eh C'era la cosa Di Primo C'era proprio la Proprio la cosa Più fortuna del mondo Vabbè ragazzi Ora possiamo Ascioparci Il pacchetto Vabbè Perché mi ha messo Stemoticon Io non l'ho messa Ragazzi Spero di trovare qualcosa Perché in questo accanto Prenderò sempre i pacchetti Speriamo di trovare Qualcosa di buono Per 3 gemme Per la mega Che sarà possibile Ora voglio vedere Quanto manca Per circa Al 3 gemme Eh vabbè Ma chi se le fa In un accanto Che non uso mai Ragazzi Ora vediamo Cosa troviamo Nel pacchetto Di Reazioni Sono caduto Ah Una probabilità Bassissima Hanno cambiato L'animazione Andiamo 3 2 1 Vai Belle Poi ci ha arrabbiato Ben arrabbiato Carl Col pollice in su Ora ho Stemoticon Personalizzate Ho troppo Ridere questa Ma che è questa Quella di Carl Bella Ah quella di Carl Tra l'altro ragazzi E' pure speciale Altro che sta faccia Sua Mettiamogli il pollice Non mettiamo la sua faccia Che tanto abbiamo Già la felicità Messa Poi la Beh dov'è Manzi ho visto Poccio intanto Ragazzi Poccio è messo Su rabbia Ovviamente Quindi non la posso Cambiare Io su Bea Quindi ragazzi Praticamente Abbiamo trovato Due rabbia E abbiamo anche Due pollici Anzi tre rabbia Perché abbiamo anche Quella di Dynamike E poi abbiamo Il sorriso di Mortis Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Sono stracontento Di questo pacchetto Fatemi sapere Se volete altri pacchetti E raggiungiamo I 6 like Entro Entro Una settimana O meno Ciao